La vita ci darà Io ti adoro, silenzioso Dio Che mi hai creato con immenso amore E inviti l'uomo nella casa tua Amore La vita ci darà In intimità Amore Il momento che scorreremo pubblicamente alla venerazione Del popolo che viveva del quartiere San Giovanni Questa nuova immagine di San Giovanni Apostolo ed Evangelista Rendiamo innanzitutto grazie a Dio Conte di ogni standardità Disponiamo i nostri animi a comprendere Il vero significato di questa celebrazione Offrendo la grande attenzione dei fedeli e del quartiere San Giovanni Questa meravigliosa immagine di un giovane apostolo Giovanissimo 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 Fratello del glorioso apostolo saggiano Pescatori di Galilea la chiesa madre pure pure sotto i nostri occhi e fige di coloro che in grado dello Spirito Santo hanno seguito il Gesù Viva San Giovanni a Porta! Grazie a tutti! 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 a tutti!